LinkedIn ha annunciato una nuova piattaforma che permette a tutti i marketer di capire meglio come poter utilizzare le sponsorizzate all'interno della piattaforma. Infatti dopo la guida che abbiamo visto qualche giorno fa legata a Reddit, che aveva creato questa guida dove poter vedere tutte le possibilità per i brand di come interagire all'interno della piattaforma, quindi possiamo vedere come fare le sponsorizzate, come entrare in modo organico e in tantissimi altri modi, quindi ad esempio partecipare a webinar direttamente organizzati dalla piattaforma. Invece come sappiamo su LinkedIn sono presenti già moltissime guide, quindi possiamo vedere moltissimi contenuti direttamente creati dalla piattaforma in una sezione dedicata del loro sito online. Questa guida in particolare è concentrata sulle sponsorizzate, quindi noi possiamo vedere in quattro categorie una tipologia di sponsorizzata diversa. Ad esempio in una prima categoria abbiamo i contenuti sponsorizzati, quindi ad esempio i caruselli o i singoli post. Dopodiché invece abbiamo le altre tre categorie che sono soprattutto diciamo innovative e presenti solo all'interno di LinkedIn, quindi vi consiglio di dare un'occhiata per capire meglio come funzionano. Inoltre ognuna di queste categorie è formata da altre sottocategorie, come ad esempio la prima che erano i contenuti sponsorizzati, è formata dai video sponsorizzati, dalle foto sponsorizzate e dai caruselli sponsorizzati. Premendo su ognuna di queste caselle ci darà tutti i consigli per ottimizzare i nostri contenuti, quindi ad esempio quali test utilizzare, quale design utilizzare, le dimensioni e così via. Queste linee guida sono sicuramente molto molto utili per utilizzare al meglio le nostre campagne all'interno di LinkedIn. In questo momento LinkedIn sta crescendo moltissimo, infatti Microsoft ha comunicato che negli ultimi tre mesi del 2020 è aumentato il 30% il numero delle sessioni create all'interno della piattaforma. Secondo me guardando gli sviluppi che sta prendendo questa piattaforma è fondamentale andare a approfondire il suo funzionamento e come poter entrare attraverso il nostro brand all'interno di questa piattaforma. Soprattutto se il nostro obiettivo è il B2B o comunque abbiamo come obiettivo e come target del nostro business altri professionisti, secondo me LinkedIn è una piattaforma che non si può sottovalutare e bisogna utilizzarla assolutamente. Per questo video è tutto, se volete in descrizione vi lascio il link all'articolo sul mio sito dove potete trovare invece anche il link per andare direttamente nella piattaforma di LinkedIn, per il resto se avete qualsiasi domanda potete lasciarla nei commenti oppure direttamente su Instagram e per il resto ci vediamo domani con una prossima notizia. Grazie a tutti.